Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati da Calciotoro. Oggi siamo qua per parlare appunto degli argomenti principali della giornata di venerdì che sono usciti in settimana o comunque sono proprio di oggi anche perché gli argomenti più scottanti di questo video li conoscete tutti e sono tutti freschi freschi. Parliamo delle maglie, parliamo della 10 a Iago Falche, parliamo dell'amichevole tra Torino e Bormiese anche se insomma era parecchio scontata e non è un vero e proprio test in vista insomma della partita contro il Debreceni o il Cuchesi penso Debreceni visto la vittoria schiacciante all'andata per 3-0 anche perché insomma è una squadra nettamente inferiore alla nostra e dunque prenderlo come un vero e proprio test per definire precisamente a che punto è la preparazione atletica del Torino secondo me è parecchio errato. È un risultato che comunque dà fiducia e vedo i ragazzi impegnarsi anche in partite che non contano nulla e questo fa onore appunto ai giocatori e mi rendo orgoglioso di fare questa squadra ancora di più. Comunque gli argomenti scottanti sono le maglie e la 10 a Iago Falche è ovviamente il mercato sul quale però purtroppo ahimè non ho novità. Non so nulla di nuovo insomma i nomi sono sempre quelli Cairo parla anche di una sorpresa io penso che alla fine non verrà né Kwame né Verdi né Caprari né Depol sarà una sorpresa io mi auguro una bella sorpresa un top player vedremo vedremo comunque sul mercato non c'è fretta ed effettivamente ha ragione in questo caso Cairo nel senso che la squadra è pronta per affrontare i preliminari così come comunque va fatto un innesto importante un titolare in attacco assolutamente e poi una riserva a centrocampo e anche un esterno poi vedremo cosa succederà io mi fido del presidente di Mazzarri so che loro parlano quasi tutti i giorni e sono sicuro che troveranno la soluzione migliore per la squadra. allora parliamo delle maglie le maglie dunque su Instagram avevo dato un mio commento a caldo dicendo che le maglie insomma non erano poi un gran che rivedendole in campo indossate dai giocatori guardandole da più appunti di vista appunto devo dire che invece sono molto molto belle molto insomma la prima mi ha colpito parecchio già mi piaceva di primo impatto perché il colletto mi fa impazzire ragazzi cioè ad esempio nella prima maglia il metodo di giudizio viene influenzato dal colletto se il colletto ti piace allora la maglia è bellissima se il colletto non ti piace è brutta a molti non è piaciuto a tanti altri è piaciuto io personalmente l'ho trovato fantastico e vederlo indossato dai giocatori non fa altro che confermare ciò che avevo detto all'inizio cioè che la prima maglia è molto molto bella la seconda ancora non l'ho vista ma è una maglia che di primo impatto non mi piace ma penso che l'interesse e il piacere nei suoi confronti crescerà col passare del tempo anche vedendo i giocatori in campo con essa mentre la maglia del portiere insomma non è così male ecco però sembra un evidenziatore parliamoci chiaro quella nera di cappa era tutt'altra cosa era fantastica, spettacolare penso che difficilmente ne avremo una così bella per il portiere negli anni a venire da parte di Gioma per la terza maglia incrociamo le dita io spero sia qualcosa di spettacolare, fantastico perché me lo aspetto, me lo aspetto Gioma sa fare grandi cose quando ci si mette di impegno quindi speriamo queste le mie considerazioni sulle maglie da gioco chiaramente poi la numero 10 è Iago Falche allora la 10 è Iago Falche io ho fatto anche un post su Instagram per Iago Falche un po' poetico, romantico, no? così è il 10 Iago Falche è il 10 in generale ho parlato del significato di avere la maglia numero 10 e del significato del numero 10 il numero 10 vuol dire tecnica vuol dire esprimere certi valori in campo qualità, talento ma talento insomma accompagnato da duro lavoro soprattutto duro lavoro perché a questi livelli non ci arrivi per caso e il 10 l'ho definito come una perfezione imperfetta e direi che non c'è termine migliore per indicare insomma non c'è definizione migliore per indicare la numero 10 e il numero 10 dunque Iago Falche è uno che rientra nelle caratteristiche diciamo di chi indossa questa gloriosa maglia e io penso che sia meritata sia meritata perché si è fatto tre anni dove ha sudato la maglia dove si è impegnato, dove ha lottato per i nostri colori ha dimostrato grandi cose ha dimostrato grandi cose sempre decisivo anche la scorsa stagione dove è stato condizionato chiaramente dagli infortuni ma è stato decisivo pure là perché ad esempio col Frosinone, con l'Empoli con l'Empoli è andata male, col Frosinone bene è entrato, ha svoltato completamente la partita è una partita che sembrava in balia del Frosinone diciamo comunque un Frosinone dominante sotto tutti i punti di vista triste dirlo ma è così entra lui e la partita cambia totalmente insomma gol di Belotti, doppietta ma lui che comunque suona la carica insomma prende la squadra per mano e quasi segna anche su un calcio di punizione spettacolare dunque è un giocatore che ha le caratteristiche e soprattutto si merita di indossare questa maglia per la prossima stagione non l'ha mai indossata in carriera io mi aspetto grandi cose perché avere la numero 10 è come metterti cioè darti la numero 10 è come metterti al centro del progetto e se tu prendi la maglia numero 10 vuol dire che sei consapevole di poter dare tanto alla squadra e di poter vivere una stagione spettacolare speriamo assieme a tutto il Torino dunque questa è la mia considerazione sulla 10 di Iago Falche queste le mie considerazioni sulle maglie che vi ho detto prima Torino Bormiese 18-1 bravi tutti in sostanza anche se era un test appunto il gol della Bormiese non mi è piaciuto molto sinceramente perché c'è stata una piccola disattenzione difensiva però insomma è una partita da cui non possiamo trarre tante conclusioni bisognerà aspettare i preliminari contro Debregeni o Cuchesi penso Debregeni ripeto comunque questo è il video del venerdì anche perché non ci sono altri aggiornamenti da fare speriamo in un acquisto speriamo in qualche novità interessante in questi giorni per il resto ci vediamo il prossimo venerdì con un nuovo video su Instagram domenica la classica live serale ormai lo sapete e niente ciao ragazzi è sempre Forza Toro